Il bollito è un secondo piatto saporito e nutriente che secondo il cuoco Amedeo Sandri deve avere almeno 5 tagli di carne, il manzo, l'immancabile gallina, il cotechino, la testina di vitello, il fiocco di vitello e la lingua solo se fresca. Si parte con la cottura del bollito mettendo il cotechino in acqua fredda, le altre carni vengono aggiunti invece ad ebollizione, a questo punto l'acqua del bollito viene aromatizzata con chiodi di garofano, carota, sedano, alloro e cipolla. Lo chef Amedeo suggerisce l'aggiunta di mezzo bicchiere di vino bianco per rendere la carne ancora più saporita. Questo piatto va accompagnato con salse come il classico crème, la radice grattugiata di rafano messa sotto aceto e la salsa verde. Per una salsa verde da sogno si deve partire dalla mollica di pane bianco messa a bagno nell'aceto per poi essere frullato con un nuovo sodo e dei cetrolini sotto aceto. A questo composto si aggiungono prezzemolo capperi, olive verdi e il filetto d'acciuga tritati, obbligatori all'aggiunta di olio extravergine ed oliva ma non necessariamente di aglio. Buon appetito!